Musica Quali sono le funzioni e come riuscite a riacquistare un sorriso a 180 gradi? Potrete insieme a Dottor Pall Musica Ciao mi chiamo Sandra Vengo dalla Sardegna Da Carbonia esattamente E sono venuta qui perché insomma ha avuto prima di me l'esperienza mio marito Mi ha convinto a venire perché si è trovato veramente bene E quindi avevo bisogno di fare dei lavoretti non tanto impegnativi però insomma mi serviva l'aiuto Ciao ragazzi Ciao Ciao Oggi abbiamo lezioni di lingua italiana In italiano Vero? Avete un'organizzazione che supporta tante cose Venire a prenderci all'aeroporto Poi l'appartamento che è più che giusto Più funzionalissimo perché tanto per dieci giorni è massimo Io mi sono trovata più che bene Sono partito da Torino Sono andato dal Dottor Simeon Il quale mi ha tolto i posti di soli dell'arcata superiore Dopo che il dottore Adrian mi ha preso le imbronti dell'arcata superiore e inferiore Per portare a termine poi step dopo step tutte le procedure Finché non viene fatto il lavoro definitivo dell'arcata superiore e inferiore E in questo modo potrò poi successivamente andare a mangiare tranquillo in tanto pace Per portare a termine poi Per portare a termine poi Grazie Grazie davvero molto Lo apprezzo davvero un sacco E niente mi fa piacere che sono qui Tante augure anche a voi Siamo un grande 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 team E niente ci vogliamo tutti bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti